Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Urciuoli, Farina, Palmieri. È la terna di nomi che il PD, attraverso il segretario provinciale di Guglielmo, sta discutendo con gli alleati. Il primo passaggio in queste ore è con i popolari. L'intesa è a portata di mano, ma non su Palmieri. E questa è la sensazione. Benché divisi, Demita e Petracca, il primo per Farina, il secondo possibilista su Urciuoli, vorrebbero comunque arrivare ad un accordo. L'intesa, come detto, escluderebbe il sindaco di Montemarano. E a quel punto sarebbe logico attendersi le reazioni dei De Cariani, che dopo una fase di tregua armata, tornerebbero a contestare su tutta la linea la segreteria e ad aprire, chissà, percorsi alternativi. Che condurrebbero a cosa? Il quadro è ancora troppo frammentato per avere certezze. Prima dovranno consumarsi i passaggi ufficiali. Per questo weekend, intanto, il PD promuova a Castelvetere la festa provinciale dell'unità. Se sarà davvero unità anche sul candidato presidente, lo si capirà da presenze e assenze. Ma l'unità che tenga dentro tutti, Demita e De Caro, passando per Dameglio, non è affatto scontata. Unità che manca pure nel centrodestra, dove Biancardi rilancia e nelle ultime dichiarazioni richiama al progetto delle larghe intese. Un messaggio indirizzato sia agli scontenti del PD che alle varie anime di Forza Italia. Ancora una volta in combutta. Che farà gamba corta? Che farà Sibiglia? Il tema è sempre lo stesso. Ma Biancardi ormai sembra della partita. Con quali forze o appoggi dipenderà ancora una volta dal centro-sinistra. Provocatoria la candidatura presidente di Grillo, che rivendica un ruolo per Selvio di gestore a Chianche. Ricordiamo che si tratta di un'elezione di secondo livello, riservata a sindaci e consiglieri, ma che il presidente deciderà su scuole, strade e rifiuti. Temi di cui al momento, a destra come a sinistra, nessuno parla ancora.